Nello scorso video avevamo terminato il calcolo del campo elettrico generato da una sfera uniformemente carica in un punto all'interno della sfera stessa Prima di proseguire, volevo ricordarvi che ho creato un gruppo di facebook dove vi invito ad iscrivervi perché lì potrete mettere degli esercizi o chiedere delle cose relative alle video lezioni di fisica e il link di questo gruppo lo trovate o nella descrizione del canale oppure nell'home page del canale troverete un quadratino con il simbolo di facebook cliccate lì e vi riporta sul sito del gruppo Ora ricapitoliamo un attimo stavamo calcolando appunto il campo elettrico di una sfera uniformemente carica in un punto all'interno della sfera stessa e ce l'è avvenuto questo risultato qui ce l'è avvenuto q grande diviso 4 pi greco e y con 0 r al cubo per r per r piccolo dove r piccolo sostanzialmente che cos'è? l'r piccolo è la distanza che c'è tra il centro della sfera e il punto in cui vogliamo calcolare il nostro campo elettrico Ora facciamo un'osservazione qui cosa succede? succede che man mano che ci allontaniamo dal centro della sfera cioè man mano che r aumenta aumenta anche il campo elettrico cioè aumenta l'intensità in realtà che cosa succede? che quando r coincide con r grande cioè stiamo calcolando il campo elettrico se questa è la sfera di raggio r grande stiamo tentando di calcolare il campo elettrico nel punto pq che si trova sul bordo della sfera stessa allora cosa succede? che qui qui cosa abbiamo? che il modulo di e è uguale a q grande diviso 4 pi greco y con 0 r al cubo per r semplificando r ci viene q grande diviso 4 pi greco y con 0 r al quadrato che è la formula della carica puntiforme cioè questo per dirvi che cosa? per dirvi che se stiamo dentro la sfera e in particolare fino al bordo della sfera possiamo utilizzare questa formula qui ma nel momento in cui raggiungiamo il bordo e lo superiamo dobbiamo utilizzare questa formula qui che è la formula che abbiamo visto quando vogliamo calcolare il campo elettrico in un punto esterno alla sfera stessa quindi se voglio fare un ricapitolo cosa posso dire? che per una sfera uniformemente carica carica cioè rho uguale costante cosa possiamo dire? possiamo dire che il campo elettrico è il modulo del campo elettrico ovviamente per mettere il se lo vogliamo fare come vettore basta aggiungere il versore radiale perché ovviamente è lungo la radiale quindi il vettore E è uguale a è uguale a Q grande diviso 4 pi greco e y con 0 r al quadrato lungo il versore con r se r è maggiore o uguale di r grande dove questo r piccolo ve lo ricordo l'ennesima volta è la distanza che c'è tra l'origine quindi il centro della sfera e il punto in cui vogliamo andare a calcolare il campo elettrico r grande è invece il raggio della sfera che stiamo considerando quindi se r è maggiore o uguale di r grande cioè ci troviamo o sul bordo oppure in un punto esterno alla sfera allora il campo elettrico è quello di una carica puntiforme questo perché perché vi ho già detto che è come se tutta la carica della sfera fosse concentrata in un unico punto e questo punto è il centro della sfera poi il campo elettrico l'altro caso è uguale a Q grande diviso 4 pi greco epsilon con 0 r al cubo per r lungo e con r se r è minore di r grande cioè che significa significa che r piccolo è più piccolo del raggio della sfera quindi ci troviamo in un punto che sta dentro la sfera stessa quindi questa è la situazione che si ha e che riassume quello che succede al campo elettrico di una sfera carica ora se vogliamo farne un disegno che cosa possiamo dire? che se qui mettiamo la distanza r e qui andiamo a mettere il campo e con r allora questo è il punto 0 allora cosa possiamo dire? possiamo dire che se ci troviamo al centro della sfera cioè r è uguale a 0 cosa succede? che il campo elettrico è uguale a 0 quindi sostanzialmente quindi sostanzialmente il campo elettrico parte dall'origine sicuramente quindi parte da un valore pari a 0 quindi la distanza 0 coincide un campo elettrico uguale a 0 quindi il punto 0,0 è la partenza di questo grafico sicuramente poi qui bisogna nel grafico bisogna istinguere due casi cioè finché r è più piccolo di r grande allora abbiamo questo campo qui ora che significa? significa che sostanzialmente questo questo campo aumenta finché non si raggiunge un valore di r piccolo pari a r grande cioè qui abbiamo ad un certo punto un valore pari a r grande e qui abbiamo il punto in cui il nostro campo elettrico è proprio uguale a 1 diviso 4 pi greco epsilon con 0 r al quadrato q cioè quello di una carica puntiforme perché? perché qui il campo elettrico cioè il campo elettrico aumenta fino a questo punto dopodiché a questo valore qui ovviamente nel momento in cui andiamo oltre questo valore r si vede chiaramente che man mano che aumenta r piccolo il campo elettrico diminuisce invece qui cosa succedeva? che man mano che aumentavamo r il campo elettrico cresceva quindi cosa sto dicendo? che finché r si mantiene più piccolo di r grande cioè fino a questo punto qui il campo elettrico cresce quindi il grafico del campo elettrico è così cresce come questa retta qui ora nel momento in cui superiamo questo valore cioè da qui in poi come si vede dalla formula cioè quando r supera r grande il campo elettrico inizia a diminuire perché è inversione devoluzionale r piccolo quindi il campo elettrico avrà un andamento di questo tipo quindi cosa succede? quindi ricapitoliamo cosa succede al campo elettrico di una sfera carica? finché ora se ci troviamo in un punto che coincide con il centro della sfera il campo elettrico è 0 poi cosa succede? che da 0 il campo elettrico inizia ad aumentare aumenta finché non ci troviamo sul bordo della sfera sul bordo della sfera avrà il suo valore massimo il suo valore massimo coincide con il campo elettrico generato dalla carica puntiforme quindi è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon con 0 q grande diviso r al quadrato ora dopo che superiamo questo valore il campo elettrico inizia a decrescere chiaramente perché man mano che aumentiamo questa distanza chiaramente il campo elettrico diminuisce perché è inversamente proporzionale al quadrato della distanza quindi l'andamento sarà di questo tipo qui ovviamente questo è il valore massimo perché perché subito a sinistra poco a sinistra di questo punto il campo aumenta poco a destra diminuisce quindi si ha un aumento e poi una diminuzione quindi sicuramente questo è un valore massimo quindi vi ripeto il campo elettrico aumenta raggiunge solo l'area massimo e poi diminuisce quindi è un aumentamento di questo tipo qui ovviamente parte dall'origine come in questo caso qui ok ora prima di chiudere questo video volevo farvi un ricapitolo per riassumere i campi elettrici che abbiamo ricavato tramite il teorema di Gauss l'argomento l'argomento teorema di Gauss finisce qui nelle prossime lezioni andremo ad affrontare il concetto di conduttori in elettrostatica poi dopo il concetto di conduttori andiamo a vedere che cos'è un condensatore poi vediamo poi corrente elettrica eccetera ovviamente il teorema di Gauss la parte teorica finisce qui ma ovviamente il teorema di Gauss verrà utilizzato successivamente si può applicare sempre il teorema di Gauss quindi è importante allora mediante il teorema di Gauss siamo arrivati al calcolo di sostanzialmente tre campi elettrici un campo uno, due, tre quindi campo elettrico di un filo infinito tramite il teorema di Gauss c'era venuto fuori che questo campo elettrico a che cosa era uguale? era uguale avevamo lambda al numeratore quindi era uguale a lambda diviso due pi greco r e y con zero lungo ovviamente con r poi per un piano infinito uniformemente carico cosa c'era venuto fuori? che il campo elettrico si mantiene costante cioè il modulo rimane costante il modulo è uguale a sigma diviso due epsilon con zero lungo la normale quindi questo quindi il modulo di E c'era venuto costante quindi questo è uno dei modi per ottenere un campo uniforme cioè quello di prendere un piano infinito uniformemente carico ovviamente se ci allontaniamo troppo questa cosa non è più vera poi l'ultima cosa sfera carica sfera carica c'erano venuti quei due valori lì inutile che ve li riscrivo erano quei valori lì che abbiamo scritto un attimo fa quindi tramite il teorema di Gauss siamo riusciti a calcolare il campo elettrico di tre configurazioni di cariche molto utili che sicuramente vi capiteranno negli esercizi ora chiaramente non ha senso imparare le formula a memoria cioè questa formula qui è inutile che le imparate a memoria sostanzialmente quando dovete fare un esercizio per esempio vi chiedono di calcolare la differenza di potenziale dovuta a una sfera carica cosa dovete fare voi dovete calcolarvi il campo elettrico e poi calcolarvi dal campo elettrico con le formule che abbiamo visto calcolarvi il potenziale ma ovviamente l'esercizio richiede anche l'utilizzo della legge di Gauss quindi non dovete scrivere la formula direttamente ma negli esercizi nei compiti dovete ricavarvi la formula come ho fatto io quindi ricopiando tutti i passaggi che ho fatto io quindi l'esercizio molto spesso consiste nell'applicare il teorema di Gauss come l'ho applicato io poi ovviamente per esempio vi possono chiedere la differenza di potenziale di potenziale l'energia potenziale eccetera poi dipende dall'esercizio stesso nel prossimo video andremo appunto a trattare un nuovo argomento questo nuovo argomento parla di conduttori in elettrostatica l'energia potenziale l'energia potenziale